ciao ragazzi grazie di essere tornati sul mio canale e di guardare i miei video oggi ho tirato fuori le bocchette dell'aria visto che sono tutte rotte provavo ad aggiustarle a tirarle serve solo un attrezzo così lo mettete ai lati e tirate in fuori allora come vedete io adesso le ho messe dritte però c'è il pezzo all'interno che con le pinzette con delle pinze con così riuscite bisogna tirarla verso fuori così almeno potete agganciarlo vado a prendere un attimo le pinze no 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 Sì, sì, sì. Poi, se nei miei video spiego abbastanza bene, se vi interessa cosa faccio, seguitemi, mettete un mi piace ai video, sarei molto più contento. Sì, sì. 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 Sì.